Siamo allo sport, parliamo del derby di domani sera al Massimino tra il Catania e il Palermo. In avanti Raffaele quasi certamente farà affidamento sulle sortite offensive di Sarau e Russotto, apparsi entrambi in ottimo stato di forma nelle ultime uscite. Peppe Raffaele però sta lavorando molto sull'aspetto mentale, si aspetta una grande prova dai suoi ragazzi. L'ultima volta al Massimino finì 1-1 ed era la stagione 2012-2013, ma era tutta un'altra storia il palcoscenico, era quello della Serie A. A questo derby ci arriva tra problemi e caos il Palermo. Filippi, neo allenatore a Rosanero, dovrà cercare di dare serenità ad una squadra che in classifica non è messa benissimo e che arriva dalla sconfitta di Viterbo. Tante le assenze in casa a Rosanero sono out, Doda, Lancini, Corrado, Canutessa, Reniti, Almici e Auger. In avanti Lucca è sicuro del posto, mentre a sinistra ci dovrebbe essere ancora Floriano, Valente infatti non è ancora al meglio e dovrebbe andare in panchina. Il ballottaggio sulla fascia destra da Sile per Rauti dovrebbe risolversi a favore dell'ex Roma più in forma al momento.